Buonasera buon anno a tutti iniziamo subito con un bel video svuota la spesa che è una vita che non ne faccio e vi faccio immediatamente vedere lo scontrino dell'idol dove trovate i prezzi allora in questa spesa non vedrete la carta igienica perché l'ho già messa via e i succhi in brick da 14 pezzi multifrutti multivitamine totale speso 62 e 84 ora ho comprato tre filettini di salmone senza pelle sotto consiglio di una signora che vi stava guardando mentre li prendevo e a cui ho chiesto se le si erano buoni mi ha detto che sono buonissimi quindi questi li faccio stasera al vapore e poi ho preso gli stick di spec che mia figlia ci fa la pasta con le zucchine e questi e poi ho preso del prosciutto cotto arrosto della mortadella bologna igp con pistacchi e del prosciutto cotto normale bottigliozza di aceto di vino bianco che mi era finito tipo goccioli della dal forno questi così senza olio di palma poi ho comprato i broccoletti le cime non so come le chiamate voi i broccoletti poi ho comprato due zuppe contadine perché comunque con il freddo che fa la sera ci piace parecchio anche una bella minestra così di verdure e stasera sicuramente ne farò una o questa di portolana o quella zuppa contadina questa cia i legumi questa cia mi sembra più oddio un tipo l'orzo il farro mentre quell'altra cia di più ceci fagioli poi pavesini questi rolletti alla nocciola poi ho comprato questi cracker con riso soffiato integrale mi sembra di averli già assaggiati e che mi piacevano però non vorrei dire una sciocchezza e per non saperne leggere né scrivere ho comprato anche i cracker normali salati poi ho preso dei tovagliolini bianchi normali qualche sfizzetto però ho voluto prendere il multi pack sia di queste al formaggio che non sono per me sia di quelle classiche perché io sono una golosona di patatine e mi finisco un sacchetto senza neanche accorgermi adesso dovrò limitare e quindi ridurre e ho provato e vabbè proviamo questi qua ma tanto lo so che me li finisco tutti lo stesso ma vabbè ho preso le patate queste qua di bologna dopo ma le altre non mi piacevano queste qua costavano forse un pochino di più ho preferito prendere queste poi ho preso ho preso questa rusti baguette non so come la chiamano rustigette che è una baguette però tipo rustica boh il panna leader comunque mi piace un sacco buonissimo del reparto lì del forno e poi tre panini normali tondi poi ho preso vabbè i tampax vabbè il panten perché comunque col panten ci troviamo bene scusate niente dicevo ho preso il panten quello liscio effetto seta questo qua è shampoo balsamo e trattamento ma vedremo e poi ho preso questo menta dente che è quello men per contro le macchie da caffè e fumo vabbè io non fumo però bevo molto tè che macchia tanto quanto io lo vedo anche sulle tazze ogni tanto mi tocca dargli un po di olio di gomito per smacchiarle e vabbè lo proviamo penso che sia il classico menta non so comunque la menta dente non mi ha mai deduso infine ho preso queste salviette multi superficie alla mela per le pulizie sbrigative dell'ultimo secondo se magari devo togliere qualche macchietta così come mi trovo bene l'unica pecca di queste è la chiusura che secondo me dovrebbero fare quella plastificata con la plastichetta dura che si chiude meglio però purtroppo le fanno così e ci adattiamo comunque queste fa della della v5 le avevo già provate diverse volte mi sono sempre piaciute non sono troppo schiumose per intenderci acquisto è questa spazzola fatta questo modo che tra le preferite di mia figlia e la sua si era consumata quindi a che c'ero l'ho presa diciamo nel reparto ciarpame non c'era niente che mi piacesse più di tanto insomma non lo so o era in fase rifornimento ma in linea di massima non mi convinceva nulla e però sono contenta del salmone adesso lo provo e costicchiato perché comunque non 3 euro e 89 3 euro e 99 però vediamo se è buono comunque ne vale la pena perché già pulito già spellato spennato e va bene così io con questo brevissimo video spesa di inizio anno vi saluto e vi ringrazio per il fatto che mi seguite e che mi tenete compagnia e mi scrivete e facciamo ogni tanto qualche chiacchierina alla prossima ciao